Siamo ovviamente alla portata del Toro, questo è un cambiato molto 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 anomalo molto difficile quindi 16 partite, 19 punti, pochi alla fine la prima analisi che può venire di questa partita chiamiamo Patrizio Sala intanto, Patrizio Sala e poi facciamo l'analisi c'è stato il Toro con Pobega e il Toro senza Pobega giusto e non è quello che la partita è finita no, no, perché te? no, assolutamente no, non c'entra il giocatore, un giocatore solo, non sono d'accordo io non so, il feggimento mentale è cambiato certo, è cazzo io non è il giocatore che fa cambiare è la pausa, è stato evociso esatto, è la pausa, io non so, non ci ha fatta bene allora, ti metto a stare al telefono a parte del centro quando c'è e se vuoi assumere gli ultimi minuti di gioco parliamo tutti, commentiamo tutti sentiamo anche i commenti di Yuric nella flash interview Yuric vediamo dal 5 giorni, vediamo la favola, la faccia 10 non è contentissimo Yuric, non mi sembra contentissimo non è che speria mai gioia però mi sembra un po' seccato, no Yuric? di questo Grazie a tutti